Il suo paese è una gran cosa, basta leggere i giornali. Un paese interamente sacchettato, una casa dai briganti incendiata, sette donne con i mariti tenutate. Che tranquillità, che felicità, vengono tenere staccate. Una caserma dai rivelli bombardate, sette suori in un convento massacrate. Che tranquillità, che felicità, com'è bella questa città. Che felicità, il suo paese senza soldi può mangiare. Quando il cinema fa la spesa, non c'è di darci a darci. Era appena pochettino e trovi roba speciale nel suo pazzo. Basta dire che andano a parlare nei giornali. Prendete, leggete il film dell'anno, dite una settimana questa. Mozzarella di carnetta, ribastata, 500 lire al filo. Un vestito su misura, da parlato, 25.000 lire. E regalate, che tranquillità, che felicità, vengono tenere staccate. Se volete scarpe belle, da pignuolo, 10.000 lire al paio. Mariolo, che tranquillità, che felicità. Quanto è bella questa città. Che delizio, che stupendo, quando sparca la roba qua. C'è stagendo assai cortese, ma non lo faccio trovare. La sepralla è bellissima, sempre pronta e puntuale, funziona una palletta, basta leggere i giornali, e si, leggete il tempo dell'altro giorno. La sepralla si comunica, al più freddo noi daremo 30 grammi e fesi a testa, e stupati invece d'arri e vernicelle, la sepralla c'è la povera e posizione, La sepralla si prepara una sorpresa, certamente avremo due patate un mese, che strangulità, quant'è bella che sta città, che strangulità, quant'è bella che sta città.